ben ritrovati telespettatori di le fonti tv con questo nuovo appuntamento di book crossing oggi parliamo di moda in particolar modo di moda sostenibile e lo facciamo attraverso un libro come di consueto in particolar modo questo che vedete appunto accanto a me la rivoluzione comincia dal tuo armadio un libro scritto ecco lo state vedendo da luisa tuni e da marina spadafora abbiamo l'immenso piacere infatti di avere qui con noi marina spadafora grazie per essere qui buongiorno e grazie per avermi invitata e per questa bella chiacchierata e infatti avremo un po di cose da dirci marina spadafora è fair fashion ambassador stilista e imprenditrice coordinatrice italiana di fashion revolution e ideatrice di fashion with a mission quindi particolarmente coinvolta in tutto ciò che riguarda appunto la moda sostenibile infatti vediamo anche qui dal dal suo sito ethic is aesthetic e questa è già una mantra immagino che rappresenta la sua la sua attività poi così assolutamente diciamo che quando parlo di etica ed estetica lo faccio perché per molti anni la moda sostenibile era associata a un'estetica un po un po dubbia non necessariamente al passo con i tempi o al passo con la moda oggi finalmente vediamo dei brand di moda sostenibile che sono bellissimi sono alla moda sono divertenti diciamo che l'innovazione soprattutto nel campo dei filati dei tessuti delle pelli vegane è molto molto interessante e quindi da questo slancio in più ai brand per diventare veramente al passo con tutti gli altri brand ma facendolo in maniera corretta in maniera etica in maniera corretta ed etica come si evince all'interno del libro il vento sta cambiando per cui l'imperativo di una maggiore trasparenza anche rispetto alle filiere è molto molto più sentito da parte dei consumatori anche dei consumatori più giovani ma è venuta prima la richiesta da parte dei consumatori di avere maggiore trasparenza oppure la consapevolezza da parte dei brand che la sostenibilità fosse la via da percorrere diciamo che la richiesta da parte soprattutto delle giovani generazioni quindi la generazione z e millennial è molto molto forte la richiesta di comprare qualcosa che corrisponda ai loro ideali quindi non di non spendere più i soldi finanziando delle operazioni che sono opache che non trattano bene le persone e nemmeno l'ambiente quindi questo è una forte motivazione per intraprendere la strada della sostenibilità per i brand ci sono degli studi di mercato che dicono che chi non inizia su questa strada ora tra una decina d'anni avranno delle perdite di fatturato intorno al 30 40 per cento quindi anche un investimento proprio strategico e di business iniziare a ripulire casa a fare la moda farla bene io vorrei veramente che la moda diventasse una un'industria esempio un'industria con il fiore all'occhiello di questa sostenibilità e stiamo lavorando molto per far sì che questo accada state lavorando molto attraverso iniziative come su scala mondiale poi con riferimento all'italia tutto il fenomeno di fashion revolution fino poi alla creazione anche a gennaio qui a milano di questa iniziativa del white sustainable milan la prima filiera di moda interamente dedicata alla moda sostenibile che cosa si propone attraverso fashion revolution di cui lei appunto è coordinatrice per l'italia dunque wsm quindi white sustainable milan diciamo che lo spin off della fiera white che la più grossa fiera di del settore abbigliamento che abbiamo qui in italia le persone che hanno iniziato questa fiera hanno capito che il vento è cambiato e quindi hanno deciso di dedicare una una parte una un appuntamento di questo white farlo diventare completamente dedicato alla sostenibilità questo anche con l'aiuto del governo abbiamo avuto dei fondi molto importanti per cui siamo riusciti a invitare i brand giovani che stanno intraprendendo questo percorso di sostenibilità e sono venuti gratuitamente quindi questa è una cosa bellissima abbiamo avuto più di 5 mila persone hanno sono venute hanno visto questi brand ed è noi come fashion revolution siamo stati partner di wsm e questa è una partnership che continua e quindi tanta exposure per i giovani brand che iniziano il loro percorso di sostenibilità un percorso di sostenibilità che è stato anche mappato infatti sul sito proprio di fashion revolution questo per entrare anche nella parte di vademecum se vogliamo di questo libro che poi presenta anche degli esempi concreti tanti siti link utili per capire quanto effettivamente nel nostro armadio sia o no sostenibile e eventualmente percorrere una nuova strada infatti possiamo vedere se mi aiutano anche dalla regia proprio all'interno del sito di fashion revolution proprio questa revolution map ecco la stiamo vedendo in cui è possibile in pratica vedere quelli che sono i negozi in cui poter acquistare moda sostenibile così sì assolutamente abbiamo voluto dare proprio un uno strumento molto pratico e utile al consumatore che decide di cambiare modo di fare i propri acquisti io ricordo sempre che l'acquisto di qualsiasi cosa oltre a essere una un atto diciamo economico è anche un atto morale perché quando noi finanziamo attraverso il nostro acquisto un brand sia di abbigliamento ma potrebbe essere anche un cibo o qualsiasi altra cosa prima dobbiamo informarci prima di dare i nostri soldi a qualcuno perché è molto importante è l'unico modo che abbiamo di influenzare il mercato quindi questa mappa dà la possibilità a chi vuole veramente cambiare i propri alle proprie abitudini d'acquisto nel campo dell'abbigliamento può andare sulla propria città cliccare l'abbiamo fatto proprio come trip advisor cioè ci sono le bandierine uno clicca esce il nome del negozio esce il sito ed è molto molto interessante abbiamo messo dentro anche luoghi di vintage e tante altre idee perché spesso e volentieri quando faccio i miei interventi o mi intervistano mi chiamano anche nelle scuole le persone dicono sì va bene fantastica la sostenibilità ma dove andiamo a comprarla e allora col team di fashion revolution italia ci siamo detti ma perché non fare una mappa che possa veramente aiutare i nuovi consumatori a fare la scelta giusta sappiamo che anche partire giustamente dai luoghi che si può fare qualcosa in concreto a proposito del del mondo del lusso ecco volevo nel libro appunto si si parla anche di di come anche grossi brand stiano cercando di tenere il passo rispetto a questo che è diventato fondamentalmente un imperativo raccontiamo un po ai nostri telespettatori quali sono alcune magari best practice che sono state portate avanti per dare qualche magari riferimento in positivo certo devo dire che sorprendentemente ci sono veramente tantissimi brand nel campo del lusso che stanno facendo dei passi concreti verso questa transizione sostenibile il problema oggi è che non lo comunicano non lo comunicano perché sono spaventati dal fatto che se iniziano questo percorso poi il pubblico gli può dire bene hai fatto tanto così fai tutto il resto ma quello che io dico sempre e diciamo anche noi oggi come associazione è che i primi passi nel mondo della sostenibilità sono come i primi passi di un bambino il bambino non inizia a correre immediatamente bisogna aiutarlo bisogna prenderlo per mano e i primi passi magari sono un po traballanti l'importante è la continuità infatti una domanda che mi fanno spesso è come riconoscere il greenwashing infatti è un rischio è sì allora il greenwashing è un fenomeno appunto come dice la parola cioè di lavare qualcosa con una mano di verde e si riconosce questo come vediamo se un brand fa un'iniziativa sostenibile se continua nel tempo vuol dire che non è greenwashing cioè ci vuole continuità la sostenibilità è fatta di continuità se non c'è la continuità e se non c'è il desiderio di andare avanti col percorso allora vuol dire che era stata uno diciamo un'operazione spot per attrarre l'attenzione della stampa dei consumatori che poi però non ha seguito se non c'è seguito e se l'anno dopo la stagione dopo non vediamo da questo brand lo stesso tipo di impegno vuol dire che ahimè è stata un'operazione di greenwashing ecco quindi questo sono degli strumenti concreti per poter comprendere meglio anche perché ricordiamo alcuni elementi comunque da valutare sempre l'industria della moda secondo le analisi di mckinsey è un'industria da 225 miliardi per cui si tratta di numeriche grandissime e c'è tutto un fenomeno purtroppo collegato anche allo sfruttamento del lavoro minorile soprattutto magari applicato in ambito dell'agricoltura nel libro si dice appunto sette bambini su dieci che fanno lavori minorili sono impiegati nell'agricoltura magari ciò che riguarda il cotone bisogna porre molta attenzione a questo a questo tema e quali sono le numeriche e come riuscire a spezzare questa catena che imprigiona e rende schiavi questi bambini diciamo che allora la cosa da puntualizzare è che l'industria della moda è una industria ad alta manualità noi abbiamo ancora persone che raccolgono cotone persone che che filano persone che cuciono soprattutto hanno hanno inventato adesso i famosi so box che sarebbero i so in robot quindi robot per cucire e confezionare i capi ma non ce ne sono ancora così tanti quindi oggi l'industria della moda da lavoro a più di 70 milioni di persone se poi parliamo dell'industria tessile in generale quindi anche tessile casa gli interni delle macchine eccetera sono 300 milioni di persone che lavorano nel in questa industria tessile e molte di queste persone non sono pagate il giusto sono tenute in uno stato di semi schiavitù come come accade la semi schiavitù a volte le persone si indebitano tantissimo per riuscire a entrare in un altro paese per riuscire ad avere un lavoro e poi rimangono indebitate a vita a coloro che gli hanno le hanno aiutate a entrare in questo in questo paese gli hanno aiutate a trovare lavoro però non fanno altro che lavorare per ripagare il debito e a volte gli vengono anche tolti i documenti per viaggiare e quindi è una soft slavery ma è sempre di schiavitù parliamo quindi quando si parla di sostenibilità non è solo la sostenibilità ambientale che è molto molto importante ma è la sostenibilità sociale che va mano in mano con quella ambientale infatti non possiamo curarci dell'ambiente del pianeta senza allo stesso modo curarci delle persone che ci vivono sopra assolutamente il concetto più allargato di corporate social responsibility assolutamente responsabilità sociale poi l'impresa ma insomma dovrebbe essere allargato alla società e alla comunità in generale nel libro viene contenuto anche questo va de me con una sorta di decalogo proprio sui consigli per un armadio sostenibile sono dieci punti magari parliamone diamone qualcuno poi sul resto magari invitiamo giustamente alla lettura del libro proprio concretamente per verificare sul nostro armadio come poter essere sostenibili allora lo step numero uno è quello di fare un censimento di quello che abbiamo in armadio prima di tutto perché tutti abbiamo tantissime cose magari doppie triple quadruple di cui magari non abbiamo neanche tantissimo bisogno dopodiché quando si fa un acquisto informarsi prima di acquisire cioè fare l'acquisto per cui capire se il brand da cui noi vogliamo fare l'acquisto è un brand che ha un profilo di corporate social responsibility o csr positivo cioè se stanno facendo qualcosa poi ci sono modi molto più semplici tipo comprare vintage dove si trovano cose molto belle e si aiuta l'ambiente perché perché si trattiene questo capo di abbigliamento dall'essere mandato a incenerire oppure in discarica e quindi se ne prolunga la vita noi diciamo love close last longer quindi l'abbigliamento i capi di abbigliamento a cui vogliamo bene durano di più e questo è l'altro punto quindi comprare meglio più di qualità e farlo durare nel tempo farlo durare nel tempo vuol dire anche rammendare vuol dire curarsene e infatti il problema del fast fashion che ci che ci dà tantissima tantissime cose a pochissimo prezzo chiaramente compromettendo sia ambiente che diciamo persone che ci lavorano è il fatto che quando noi investiamo poco nell'acquisto di un capo di abbigliamento poi buttarlo via senza magari averlo neppure indossato una volta non ci dà un senso di colpa e questo è tragico perché invece l'impatto ambientale e sociale che questo capo di abbigliamento ha avuto è terribile quindi se noi invece tratteniamo l'impulso di questa bulimia d'acquisto un attimino ci facciamo contiamo fino a 33 prima di spendere e poi decidiamo di magari tenere da parte un po di soldi e comprare qualcosa di più bello che a cui teniamo molto che è di qualità e poi a far sì che questo capo duri nel tempo o che magari lo possiamo anche lasciare ai nostri figli che bello io ho un sacco di cose di mia mamma meravigliose e spero che anche i miei figli e le mie figlie porteranno quello che io mi sono messa è proprio un modo anche carino umano e affettuoso di voler bene agli abiti assolutamente perché voler bene agli abiti anche alle persone lasciando anche attraverso l'abito quello che che si è sicuramente molto molto umano riguardo al tema appunto della bulimia d'acquisto del fast fashion e delle materie prime prima parlavamo lo accennavamo sicuramente anche questo è un grossissimo tema parliamo del dell'acqua ad esempio oppure del cotone degli altri filati come riuscire a avere un impatto minore su comunque queste materie prime che sulla terra non sono inesauribili no assolutamente infatti ogni anno noi raggiungiamo quello che si chiama earth overshoot day che il giorno in cui abbiamo consumato tutte le risorse non rinnovabili del pianeta e succede quest'anno è successo ad agosto l'anno passato è successo a luglio abbiamo guadagnato un mese quest'anno perché c'è stato il lock down e quindi le imprese tutto si sono bloccate ma tutto questo utilizzo sfrenato delle risorse senza curarci del fatto che poi le generazioni future magari non ne avranno più di risorse non va bene e quindi come dicevi l'utilizzo dell'acqua deve essere calmerato lo possiamo fare anche a casa chiudendo banalmente il rubinetto quando ci si lava i denti oppure evitando di fare quello che chiamano idrocidio hydro side no idrocidio esatto e se pensiamo che un paio di jeans consumano una quantità d'acqua incredibile e uno dice ma come mai tutti queste migliaia di litri d'acqua non è semplicemente la produzione proprio del capo di abbigliamento ma è tutto quello che è andato nell'irrigazione dei campi di cotone è tutto un processo molto ampio che parte dalla fibra se c'è più richiesta ad esempio per il cotone organico il cotone organico non solo fa meglio all'ambiente ma il terreno in cui viene coltivato trattiene meglio l'acqua perché è più poroso ed è più fertile quindi già il cotone organico utilizza meno acqua se più consumatori chiedono nei negozi ma non c'è qualcosa in cotone organico e inizia a crescere la domanda ci sarà anche più possibilità di creare nuovi campi che vengono coltivati in maniera organica e si amplia questa questa diciamo fare del bene verso proprio la terra un circolo virtuoso possiamo proprio definirlo stiamo in chiusura si è accennato al tema del della pandemia del del lockdown che evidentemente ha fatto ha messo in moto anche dei dei ripensamenti ci auspichiamo non di breve o medio termine ma anche più a lungo termine anche sul nostro ruolo sulla terra e insomma anche tutto l'impatto del cosiddetto climate change e i movimenti di fight the future che vengono anche citati abbondantemente nel libro fanno capire che c'è una sensibilità su questo però quali possono essere anche alla luce di quello che stiamo vivendo gli obiettivi raggiungibili in questo senso per una moda più sostenibile ma anche per una società e una comunità che vada in questa direzione dunque c'è una associazione e una certificazione che si chiama z d h c che vuol dire zero discharge of hazardous chemicals quindi arrivare al punto in cui l'industria della moda non immette più sostanze dannose chimiche nell'ambiente questa questo protocollo deriva dal detox protocollo di greenpeace e quindi c'è questo desiderio di far sì che l'industria della moda arrivi a essere a impatto zero dal punto di vista chimico quindi è molto importante che si vengano passate delle leggi molto forti su questo punto insieme a 60 associazioni non governative abbiamo proposto al parlamento europeo una shadow policy che si chiama fair and sustainable textiles che vuole essere proprio una traccia per fare una legislazione sul tessile molto più accurata e molto più seria che parli sia di ambiente quindi dell'impatto delle sostanze chimiche ma anche di etichettatura noi vogliamo molto fortemente dei codici qr sulle etichette che una volta fatta la scansione ti diano la storia di questo capo dove è stato cresciuto il cotone dove è stato prodotto come sono stati trattati i lavoratori che hanno lavorato a questo capo eccetera eccetera allora speriamo vivamente che come nell'industria alimentare e in quella cosmetica anche in quella tessile si arrivi a un punto dove la legislazione è talmente forte e talmente chiara che non ci sono più vie d'uscita e quindi si comincerà veramente tutti insieme a fare un lavoro molto serio e a beneficiare sia il pianeta che le persone io ricordo che marina spada fuori è stata anche insegnita mi sembra nel 2015 è corretto dalle nazioni unite di un prestigioso riconoscimento proprio per questo tipo di attività che sta facendo insomma sulla conoscenza e la consapevolezza perché anche nel libro si parla c'è un capitolo proprio dedicato a tutto il tema dell'educazione e della maggiore consapevolezza perché più facciamo un percorso di conoscenza e più in teoria ma anche in pratica metteremo in atto delle cosiddette buone pratiche delle buone prassi io ringrazio nuovamente marina spadafora per essere stata qui con noi vi rinnovo l'invito alla lettura del libro di cui è coautrice la rivoluzione comincia dal tuo armadio edito da solferino e speriamo di poterci rivedere anche presto per continuare anche un percorso legato alla sostenibilità molto volentieri e grazie per questa bella occasione a presto io ringrazio anche i nostri telespettatori per averci seguito non mi resta che lasciarvi il resto della programmazione di le fonti tv book crossing torna venerdì prossimo sempre alle 17 30 buona serata ringrazio anche i nostri telespettatori per averci seguito non mi resta che ci sono